Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del mio medico, puntata ricchissima di argomenti. Oggi iniziamo parlando di reflusso gastroesofageo, soprattutto in questo periodo dell'anno purtroppo a causa anche del cambiamento climatico il nostro stomaco un po' è neresente e si accentua questo tipo di disturbo. Oggi niente paura perché il professor Stefano Arceri che è tornato a trovarci docente di chirurgia generale all'Università Sapienza di Roma ci dirà esattamente come affrontare questo disturbo che a volte purtroppo non ci fa neanche dormire. Però prima di iniziare a parlare il professor Arceri vi ricordo i nostri contatti, come fare ad entrare in contatto con noi, lo vedete il numero di telefono in sovraimpressione 066508937, il nostro contatto mail il mio medico chiocciola tv2000.it e i nostri contatti tramite i social Twitter, Facebook e Instagram anche, scriveteci anche lì attraverso i social. Allora iniziamo subito professore Arceri, ho detto che questo è un periodo dell'anno un po' strano, un po' anomalo, questo cambiamento anche climatico certamente non favorisce chi soffre di reflusso gastroesofageo, ma che cosa succede al nostro stomaco, più esattamente al nostro esofago quando soffriamo di reflusso? Brava Monica, bravissima, perché in realtà è cosa succede al nostro esofago, perché tutti pensano che l'oggetto inquisito è lo stomaco, in realtà è l'esofago, perché che cosa è che succede? Il reflusso, già lo dice la parola stessa, vuol dire che qualcosa refluisce, allora del contenuto gastrico, cioè quello che noi abbiamo nello stomaco, risale nell'esofago. Ti dico subito Monica che questa è una cosa che abbiamo tutti, l'ho io, l'hai te, l'hanno i nostri amici, tutti, chi più, chi meno ha reflusso, il problema è quando questo reflusso diventa troppo costante, troppo frequente e troppo, come quantità, diventa un pochino troppo eccessivo. Allora che cosa succede? Che da un fatto fisiologico normale diventa un fatto patologico, cioè si cronicizza e allora si entra in quella grande sfera che si chiama malattia da reflusso gastroesofageo. Che cos'è che avviene? Lo stomaco è dove abbiamo il primo assorbimento, la prima digestione di quello che noi mangiamo ed è un ambiente estremamente acido perché ci sono delle cellule che producono dell'acido che serve per assorbire soprattutto le proteine, i carboidrati e via dicendo. E le pareti dello stomaco, le pareti interne dello stomaco hanno una tolleranza a questo ambiente acido, cosa che non ha il nostro esofago, che è quella parte dell'intestino che è subito prima del nostro stomaco. Tra l'esofago e lo stomaco c'è una struttura sfinteriale, cioè un tappo che non permette al contenuto gastrico di risalire sopra. Per svariati motivi che vedremo durante questi dieci minuti, questo sfintere non funziona più a dovere, in modo corretto, per cui il contenuto nello stomaco che abbiamo detto essere particolarmente acido sale in esofago e va a irritare le cellule che tappezzano la parte interna dell'esofago che non sono assolutamente abituate a questa irritazione. Parliamo dei sintomi, perché molte persone si spaventano, perché quando sentono un dolore, soprattutto a livello sternale, a livello centrale del petto, pensano subito ad un problema cardiovascolare. Io non sono un allarmista, però fanno bene, nel senso che non bisogna fare i due errori. I due errori sono quelli di avere un dolore dietro lo sterno e dire che è un reflusso, o al contrario, avere un dolore dietro al petto e dire che è un infarto e invece è il reflusso. Allora, innanzitutto vanno saggiati vari sintomi, perché non è che un singolo sintomo fa una malattia. Diciamo che il reflusso, in linea di massima, dà sicuramente questo apirosi retrosternale, così si chiama, cioè dà questo bruciore dietro lo sterno, dà questa poi sensazione di rigurgito, cioè anche a livello fino alla gola si ha questa sensazione di amaro in bocca, no? E ci sono dei momenti in cui ciò avviene. Poi ci sono comunque disturbi alla deglutizione, la deglutizione può diventare anche dolorosa, nonché difficoltosa. Altri disturbi che mi vengono sono il singhiozzo, l'alitosi, cioè sono tutta una serie di disturbi che vanno comunque analizzati e riferiti al medico di base. Questo è assolutamente. Il medico di base, sulla base poi di una visita anamnestica, di una raccolta anamnestica molto corretta, importantissima in questa malattia, già si può orientare. Parliamo delle cause, molte persone, insomma, l'alimentazione quanto c'entra e quanto non c'entra, c'entra sicuramente in minoranza, ma ci sono anche altre cause che possono favorire l'insorgenza del reflusso, professore. Allora, abbiamo, ho già detto Monica, che in linea di massima c'è una cattiva funzione di questo sfintere, che si chiama sfintere suffrageo inferiore. E questo è una causa. E questo è un fatto, diciamo, anatomico, ok? Ma se a questo ci aggiungiamo uno stile di vita e un'alimentazione che ne alimentano il fastidio, chiaramente questo porta ad un aumento di questo fastidio. Quali sono gli alimenti che sicuramente devono essere, non completamente banditi, ma insomma, assunti con una certa modellazione. Poi parleremo anche perché abbiamo fatto addirittura un cartello, così magari le persone che ci seguono a casa, professore, possono andare sulla nostra pagina Facebook e magari fare attenzione, perché no, evitare alcuni cibi importanti. Assolutamente, è un elenco che va visto con la dovuta accortezza e analizzata con molta tranquillità. Comunque, l'obesità, gli stili di vita, un'ernia iatale, per esempio, può essere causa di questo fastidio. Così mi viene in mente una difficoltà allo stomaco a svuotarsi, per cui c'è un rallentamento dello svuotamento gastrico e, a parte, come abbiamo già detto, una cattiva funzionalità di quello sfintere, anche e soprattutto, per esempio, avere delle abitudini che non vanno assolutamente bene. E poi ti dirò quali sono. Allora, ci sono anche gli esami, no? Allora, abbiamo detto che sicuramente il parlare con il medico di famiglia, di base, insomma, è il primo approccio che un paziente deve avere, per cui fare un'analisi obiettiva del paziente. Ci sono anche altri esami che possiamo fare? Guarda, Monica, è effettivamente un bravo medico di base, comunque un bravo medico che sa ascoltare il proprio paziente e sa visitare il proprio paziente, già con la raccolta dei dati e la storia di questo paziente può giungere quasi ad una diagnosi. e istituire già, avendo escluso, mi raccomando, un fatto cardiologico, per cui farà un elettrocardiogramma, farà delle indagini, dei prelievi per vedere che non ci sia alla base, invece, un infarto, un'angina, un problema cardiaco, può cominciare già a fare una terapia. Se questa terapia, in linea di massima, dà beneficio, allora la diagnosi è fatta e la terapia è corretta. Quando questa terapia non risolve completamente il problema, che è una blanda terapia, allora può fare delle indagini suppletive, di indagini diagnostiche, e che si basano esclusivamente su un'esofago gastrodotenoscopia. Cioè, si entra dalla bocca con una piccola telecamera, è una gastroscopia, però si chiama esofago gastrodotenoscopia, perché in realtà... Questa è la parola... Esatto, più corretta. Dopodiché può fare degli esami funzionali importantissimi, che sono la pHmetria e la manometria esofagea. Sono due esami, però, fastidiosi. Sono esami di secondo livello, sono esami che devono andare a studiare... Indagare qualcosa altro, probabilmente. Perché? Perché si entra dal naso con una piccola sondina che, insomma, non è proprio piacevole. Devo essere onesto, non è piacevole, però danno dei dati molto importanti. Allora, qui al mio medico, lei lo sa, professore, insomma, il nostro pallino è parlare di alimentazione, perché noi siamo quello che mangiamo, è molto importante. Anche in questo caso, come lei ci accennava prima, ci sono alcuni alimenti che bisognerebbe evitare. Quali sono? Allora, gli alimenti che sicuramente dobbiamo evitare sono quelli che stimolano la secrezione gastrica dello stomaco. E quali sono? Sono tutti i cibi grassi. Qui bisogna dare sempre le brutte notizie, no? Pare che tutto quello che ci piace fa male ed è una realtà. Per cui eliminare tutti i cibi grassi. La cioccolata, il caffè. Fortunatamente la Pasqua è passata, per cui posso dire che la cioccolata va evitata. Però sta arrivando l'estate, il caffè, troppo caffè, esatto, le spezie, il pomodoro. La frutta può essere mangiata, però la frutta, quella, gli agrumi, deve essere invece un pochino evitata. Il fumo di sigaretta è veramente deleterio, perché? Perché oltre a stimolare la secrezione gastrica, sembrerebbe agire anche su quello sfintere che dicevo prima, Monica, lo sfintere soffaggio inferiore, che ne rilascia un pochino la sua funzionalità. Perché il problema dello sfintere è quando questo sfintere si va a rilasciare quando non si deve rilasciare, permettendo così al contenuto gastrico di refluire in esofago. Parliamo delle terapie, perché bisogna curare in questo, non possiamo soffrire. Quali sono i farmaci più adatti per curare il refluo? Allora, a parte il cambiamento, come abbiamo detto, dello stile di vita ed evitare i cibi che abbiamo detto, che già con questi si sortisce un ottimo effetto, abbiamo al nostro arco diverse frecce. Molti farmaci considera, Monica, che la terapia medica di questo tipo di patologia risolve nella stragrande maggioranza dei casi il problema. Parliamo del 95% di guarigione da questo problema. Il totale quasi. Una volta, questa patologia era una patologia che il chirurgo era abbastanza interessato, molta chirurgia si faceva oggi, è una rarità portare, diciamo, in sala operatoria questo malato. I farmaci che noi abbiamo sono fondamentalmente di tre tipi. Sono farmaci che diminuiscono l'acidità gastrica, gli antisecretivi cosiddetti. I procinetici, sto dicendo delle parole difficili ma assolutamente utilizzerò dei termini più semplici, i procinetici sono quei farmaci che spingono lo svuotamento gastrico. Questi sono i farmaci che più si usano e poi i protettori dell'esofago, cioè questo esofago che purtroppo è soggetto a questa sollecitazione, a questa irritazione acida, noi lo andiamo a proteggere con delle sostanze che prendiamo comunque. Per tutta la vita si devono prendere questi farmaci? Di massima sì, Monica, purtroppo, perché a meno che uno non cambia completamente lo stile di vita, si modificano completamente le cose, ha la sospensione della terapia e qualche disturbo ritorna. Però uno può provare, se diminuendo la terapia non tornano cambiando gli stili di vita, potrebbe pure essere possibile sospenderla. I miei massima per esperienza vedo che poi comunque il paziente anche per paura, Monica, continua a prendere la terapia. Parliamo di prevenzione, si può in qualche modo prevenire questa malattia? Prevenire no, però sicuramente si può cercare di evitare di accenderla. E come si fa? Innanzitutto non mangiare pasti troppo abbondanti, suddividere i pasti in più parti e non mangiare con voracità. No, eliminare quegli alimenti che abbiamo detto. Non andare soprattutto a coricarsi, cioè a dormire, subito dopo aver mangiato. La classica pennichella dopo pranzo non è francamente consigliata. Così come aver mangiato e sdraiarsi sul divano per vedere un bel film non va bene. Diciamo che dopo l'alimentazione, dopo aver mangiato, bisogna stare eretti, seduti almeno per un'oretta. Questo per permettere comunque di tamponare quello che noi abbiamo mangiato. Gli abiti troppo stretti non va bene. Non va bene. Gli sforzi, il piegarsi, sono tutti, diciamo, quegli eventi fisici che possono comportare la risalita del contenuto gastrico in esofago. Grazie, professor Stefano Arceri. Grazie davvero per averci dato questa informazione.